Il regno del kebab, piazzetta perna 7-8, via Carducci, angolo via Piave, chiuso il martedì. Contrada a Quattrograna, via Carducci, via Piave, via Tagliamento, via Versa e via Cavour. Le immagini che documentano la faccia sporca della città sono state registrate in tarda mattinata e dimostrano che almeno in queste zone la partenza della raccolta differenziata non ha preso piede. Basta vedere in che condizioni giaceva una strada come via Piave, al centro città, dove sono situati numerosi esercizi commerciali e palazzi di più piani. La montagna di Mondizia, che vi mostriamo, è a pochi metri dalla sede dell'Asla. Non è partita bene, vedo la differenziata stamattina, vedo una montagna di Mondizia. Sì, ma in quella hanno tolto i secchioni, i grassettori, 5 giorni prima. Non è giusto, eh. E quindi c'è adesso una montagna, il quadri di rifiuti. Eh. Non sapete dove depositarla? E dove si doveva mettere? A gente non sa che mai fare la parmigiana, qua la spezzatura, non sono un microcucinato. Non lo so che è successo, io non ci sono stata qua, 3-4 giorni, non so che è successo, ho trovato tutto questo. La montagna di Mondizia. Eh sì, di fatti, è esagerato proprio. Percorrendo via Tagliamento, arriviamo a Via Versa, anche da queste parti non mancano i cumuli di immondizia a terra. Allora, il primo giorno di differenziata è stato molto confusionario, in quanto, dato dal fatto che comunque non c'è stata un'informazione diretta, se non era per il cittadino che si informava sui canali, sui media e sul comune di Avellino, non sapevi quali erano i giorni dedicati per la differenziata. Il concetto di base è buono, perché il porta a porta è un modo di fare differenziata che ti garantisce degli ottimi risultati. Però la disorganizzazione è evidente, tu basta che giri per la città e ti trovi parecchi angoli delle strade dove sono ammassati i sacchetti e tutta l'immondizia senza avere i contenitori appositi. La nostra ultima tappa è accontata a Quattrograna, dove il degrado che da sempre attanaglia, questo quartiere, non è stato sicuramente alleggerito dalla differenziata. La campagna di formazione è stata, diciamo, non efficiente, perché con una confusione generale, anche nella distribuzione dei contenitori, troppo burocrazia, al comune ritira il moto, stanza 23, poi vai al fine ambiente. Non solo con Trata Quattrograna, stasera mattina ho fatto un giro per la città, anche via Piave, anche altre strade della città sono piene di immondizia per strada. L'amministrazione comunale aveva detto che questa città sarebbe diventata una città modello per quanto riguarda la raccolta differenziata, infatti l'unico modello che abbiamo, che abbiamo colorato con i sacchetti dell'immondizia, le strade di cittadine, che l'immondizia sarà al posto delle luminarie.